A due anni dallo scoppio della cosiddetta primavera araba, il Mediterraneo è ancora in fiamma. La guerra civile in Siria, la gravissima crisi politica ed economica in Egitto che ha portato alla destituzione dell'ex presidente Morsi da parte dell'esercito, il difficilissimo compito di ricostruzione della Libia, di state building in Libia, sono soltanto alcuni degli esempi più macroscopici di una grandissima trasformazione che sta investendo l'intera area del Mediterraneo. E ciò in un contesto in cui le relazioni internazionali stanno subendo una profonda trasformazione, con il lento ritiro degli Stati Uniti dal Medio Oriente e l'ingresso nel Mediterraneo delle nuove potenze, la Russia, la Cina, persino l'India e il Brasile. In tale contesto il silenzio dell'Europa e dell'Italia è sorprendente. Dopo il naufragio del progetto dell'Unione per il Mediterraneo che fu lanciato dall'ex presidente francese Sarkozy a Parigi nel 2008, l'Europa è apparsa afona, inerte, incapace di un'iniziativa in un contesto geopolitico e geoeconomico che pure è di diretta, rilevantissima pertinenza per l'Europa e segnatamente per l'Italia. Per ragioni legate alla sicurezza, all'economia, all'approvvigionamento energetico, al controllo dei flussi migratori. In queste condizioni il silenzio dell'Europa è francamente sorprendente e in questo volume, che ha il titolo Il Mediterraneo dopo la primavera araba, cerchiamo di fare il punto sull'insieme di queste trasformazioni. Alcuni dei maggiori specialisti italiani e internazionali, affiancati da giovani studiosi di già ricca esperienza internazionale, cercano di chiarire l'andamento di questi processi, cercando di esaminarne le ripercussioni per l'Europa e per l'Italia. Il volume è disponibile anche in ebook, oltre che in formato cartaceo, e per l'appunto si divide in due parti, la prima delle quali è dedicata ad un'analisi dei processi generali in corso, con particolare attenzione all'Europa, e la seconda parte ad una analisi degli eventi all'interno dei principali paesi investiti da questo processo. L'espressione primavera araba forse non coglie nel modo adeguato ciò che sta accadendo, ma non c'è dubbio che l'Europa e l'Italia dovranno necessariamente tornare a fare i conti con quello che accade in una zona di prossimità per l'Europa e particolarmente per l'Italia. La crisi economica, spiega, ma non giustifica, questo rinchiudersi dell'Europa in se stessa, che le ha impedito di confrontarsi nel modo che è necessario con questi processi che riguardano l'economia, la sicurezza, l'approvvigionamento energetico e naturalmente, e questo è un problema particolarmente sensibile in Italia, il controllo dei flussi migratori. Quindi il Mediterraneo dopo la primavera a cura di Gianluca Sadum Bordoni, che sono io, docente all'Università di Teramo e membro del forum strategico del Ministero degli Esteri.